La scelta della difficità, consigliere, è stata dotata, perché al di là di questo lavoro di forzo in più, è caldosa, diceva che è caldosa, piuttosto che è quale, è la cosa di più, è quale poco. Al di là di questa faccola scrittura, giusto per ricordare all'aula che stampa tecnica ha riconosciuto che magari la soluzione della semplicità è stata sicuramente ripeto, non la migliore perché tutto è perfezionabile, ci mancherebbe altro, ma è stata probabilmente fortuna, laddove circa 100 mila per gli altri per calcolare dati, recito del solo di 24 ore che si vuole essere, e tensioni di pochi contrapotenti delle eccezioni, solo nel 24 ore del medesimo periodo, che facciano questa semplastura che è data l'approvazione di escezioni di benifici che in realtà sono compensati da mangiudicissimi procedimenti. E poi voglio ricordarvi che abbiamo presentato al concilio un sistema legno dove abbiamo dimostrato che all'azienda di valutazione politica e limitando i centri numeri, comunicato la psicologa, fra non dico i più economici, ma sicuramente non c'è di quelle alte cose massime, come è stato detto in quest'aula. È giusto che abbiamo visto a disposizione questo schema di condatti omogenei, non condatti omogenei su quest'aula, per esempio, ma su Cotinano, piuttosto che con casi, il Comune di Casano rispone con la sua semplicità in una rigora che indietro sostanzialmente in termini economici, cittadini ai sottestiti, e per quanto non piacevola. Grazie. Grazie. Ma come non c'è una parola, ma come c'è una parola, 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 come c'è una parola. Allora, se non ci sono i miei fredditi, il medico è di protezione, il piano parlo, è di protezione, il piano parlo, il piano parlo, il piano parlo, la produzione di eh, non è? questo sarà l'anguia, questa danta cioè sarà l'istopo soffice ecco in particolare, che hanno fatto quattro canali e ci sono fatti che non ci credo da una volta ci sono che si fanno scoperti come una relazione grazie bene esatto è quello che ne volevo dire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.